Se dovessi diventare sindaco, vorrei essere ricordato per aver reso la vita più facile alle persone fragili. Marco Lanzi parte da questa affermazione di prospettiva nell'avviare la prima di una serie di conferenze stampa tematiche proposte dalla coalizione a sostegno della sua candidatura a sindaco di Pesaro. Lanzi parte dal sociale da lui stesso definito la priorità fra le priorità, al punto che farà convergere sul tema la sinergia di tre uffici amministrativi, quello dei lavori pubblici, dell'urbanistica e degli stessi servizi sociali. Questa sarà la nostra prima grande svolta, ci crediamo tantissimo. Infatti nelle nostre liste civiche ci sono molte persone che da anni prestano proprio un'attività concreta nel mondo del sociale e per questo sono veramente circondato da persone competenti. È importante non fare interventi così ogni tanto estemporanei ma nel terzo settore è importante programmare. Per questo abbiamo deciso di mettere insieme, la prima cosa che farò se diventerò sindaco è di far interagire i tre assessorati che avete appena nominato proprio per programmare gli interventi sul sociale perché senza programmazione i risultati non si ottengono. Credo che questo sia un modo veramente per ridare dignità a tante persone che incontrano grandissime difficoltà soprattutto in momenti di grossa crisi economica e sociale come questa. non li possiamo lasciare da soli e quindi anche se dovremmo togliere risorse e altri settori per noi veramente la priorità delle priorità lo dimostra e quella del sociale e per questo la prima conferenza tematica, questa è soltanto la prima, l'abbiamo decisa affrontando questo argomento. Ad affiancare l'anzi nella pianificazione di strategia di welfare Andrea Boccanera, da sempre impegnato nel settore e ora capolista dei civici Pesaro. Per Boccanera il cambio di prospettiva sarà il passaggio da un welfare estrattivo che è stato finora preponderante nell'amministrazione uscente verso un welfare generativo che produca risorse e finora circoscritto a pochi casi. Il welfare generativo è un nuovo modo di pensare dove il welfare può generare economia in città e non essere una perdita o un buco. È una cosa molto difficile da comprendere ma è la nuova via per gestire il welfare che altrimenti poi nel tempo con questa famosa coperta che è sempre più corta andrà a scomparire. Welfare generativo come criterio trasversale in cui ripensare diverse politiche, da quella abitativa ad un'accelerata sul PEBA, da un'integrazione di Aspes nelle politiche sociali fino agli stessi centri diurni. Tutto quello che è sociale in città, che per oggi noi abbiamo la visione che deve essere una spesa, quindi un buco, deve essere portato ad essere una cosa viva che crea economia. Pensiamo solamente ai centri diurni per ragazzi divisabili, una spesa folle ogni anno, invece dobbiamo essere ripensati per dare vita ai ragazzi e quei centri devono produrre economia. Le altre realtà dell'Europa ne lo fanno, dobbiamo farlo anche a peso questa cosa qui. Ogni centro diurni deve essere un centro di produzione o di un servizio, di un bene, di un qualcosa che porti economia e riesca a far vivere quel centro di vita propria.